In questa flagellazione del 1482-85, Luca Signorelli ha al contempo un grandissimo linearista, un prospettico e un colorista. Uso una terminologia che viene da Roberto Longhi, da un libricino che scrisse nel 1914 per i suoi studenti a licei Tasso e Visconti a Roma, e che è un viatico straordinario ancora per avviarsi allo studio della storia dell'arte. Perché è un grandissimo linearista? Guardiamo per esempio le figure degli aguzzini e dei soldati e dello stesso Cristo alla colonna durante la flagellazione e guardiamo le asperità della linea, di una linea funzionale, tutta volta la rappresentazione dell'energia, del movimento, dello spostamento delle masse corporee. Una linea che è tutta contorno chiuso, capacità di tenere la forma e di alludere al movimento, il bilanciamento di gambe tese, gambe flesse, le braccia alzate, gli angoli dei gomiti, le diagonali e controdiagonali e tutta quell'euritmia nervosa nella rappresentazione del movimento concitato. È un architettonico perché tutta la scena si svolge su un piano prospettico tirato mirabilmente, anche se senza quelle specchiature a scacchi che sovente si usano nella pittura rinascimentale. Un piano liscio, trasparente, bianco. Sullo sfondo l'ambientazione architettonica di un arco di trionfo, e in basso il fregio orizzontale, che ci dicono tutto l'amore per l'antico che c'è in questo quadro. E ci dicono di tutto il magistero di Piero della Francesca su Luca Signorelli. Ed è anche al tempo un grandissimo colorista e un pittore di luce. Questi corpi, questi contorni lineari, sono riempiti da una luce chiara, trasparente. Guardiamo la trasparenza delle ombre nel soldato di spalle alla destra di Cristo. E tutta la superficie è come una tarsia coloristica. La funzione dei rossi nelle calze del soldato, nel panneggio della guzzino di sinistra, nel cappello sempre del soldato, o in quella linea orizzontale, sull'arco di trionfo nel fondo. E questa luce chiara, trasparente, che riempie lo spazio e lo misura, pur nel suo schiacciamento bidimensionale. Ed è straordinario, dal punto di vista della luce, il gioco delle ombre portate nel primo piano, quelle diagonali e controdiagonali basse che si intrecciano, dandoci in modo così straordinario l'idea della trasparenza, della profondità, della luce, del movimento.